Come è una magnifica opportunità per tre settori industriali importanti? Il produttore e i clienti di zucchero è molto importante proprio per il messaggio che dobbiamo lanciare, il messaggio è che lo zucchero fa bene, fa bene proprio intanto al paese perché è un'economia che non deve sparire, fa bene all'uomo.